Musica Domenica 7 ottobre, cielo grigio in Valle Cervo. Ma un raduno particolare ha ravvivato la classica giornata autunnale, un incontro degli Over 60 di Andorno e Circondario. Cornice di questo appuntamento le piane di Pratetto, a nord di Tavigliano, un luogo molto conosciuto che ai tempi veniva frequentato da ognuno dei partecipanti per sciati invernali, gite camminate e scampagnate primaverili ed estive, magari fino a Bielmonte. L'atmosfera di convivialità è palpabile, amici che si ritrovano dopo essersi persi di vista magari da anni, chiacchiere, immagini liete o meste di tempi lontani, ma racchiuse nell'intimo come segni di vita. Qualcuno improvvisa una riflessione sul senso del ricordo. Il piacere di incontrarci almeno una volta, quando possiamo, in un ambiente non assise come questo. prezioso, intimo, dentro di noi, che non può essere alterato, appartiene alla storia di ognuno. Ci sono immagini, sensazioni, problemi, gioie che ognuno di noi tiene dentro di sé e che diventano stupenda energia quando il ricordo può essere sollecitato con qualcuno che del ricordo è il protagonista, l'amico della nostra storia. A fine giornata i presenti rientrano alla loro vita consueta, accompagnati dallo scampanio dei campanacci delle mucche che pascolano placide, mentre poco distante alcune capre osservano da un'altura avvolta da una fine nebbia.